I contagi da coronavirus non calano e la Sicilia è pronta a nuove misure restrittive. L'ultima ordinanza sul tavolo del governatore Nello Musumeci potrebbe cambiare la nostra quotidianità. La nuova ordinanza introduce due grandi novità. La prima è l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Andrà indossata a prescindere dal metro di distanza, anche quando si è soli e non ci si trova in luoghi affollati. La seconda novità riguarda la Movida, con misure stringenti per evitare gli assembramenti per strada o nei locali. Si tratta di un'ordinanza che di fatto è molto più restrittiva rispetto alla parziale riapertura di quest'estate. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 107 siciliani risultati positivi al SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore. Ieri l'incremento era stato di 125 casi. Da registrare anche due vittime dal Covid, ma c'è anche qualche segnale positivo, come una riduzione delle ospedalizzazioni e un buon incremento di pazienti guariti. Intanto, da qualche giorno, il primo carico di tamponi rapidi è in distribuzione alle aziende sanitarie dell'isola. Serviranno ad effettuare diagnosi più veloci dell'eventuale positività al coronavirus, riducendo così al minimo i disagi nelle scuole e nei luoghi frequentati da molta persona. Adesso, se arriverà la firma sull'ordinanza, le mascherine saranno obbligatorie sempre. Grazie. 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 Grazie a tutti.